Allora, dovevo fare l'ultimo video e poi riprendevo a settembre, però visto che per alcuni impegni, diciamo, tra virgolette lavorativi, alcune proposte che mi stanno arrivando grazie ai video, sono rimasta a Napoli e sto patendo capo. E con me c'è mia nonna che urla giù, Enzo, Vincenzo Lamagna, Daniele Perrone, campione italiano di Messi, e poi un altro pronto a giocare qui. Eh, davvero le cose, grazie. Non sapevo giocare. Io sono scarsissimo. Scarsissimo turista. E quindi andiamo subito con il nuovo Chattureft. Che è sciarabio? È sciarabio. Fammi sentire, dici, dici. Fammi sentire, dici, dici. Ma fammi sentire. Che rappresenta sta cosa? Questa è femmina. Hi. Ehi. Sprager. Te lo faccio? Sbunder, sbunder. Che cosa? È morto. Ma gli smuov. Ma gli smuov. Canimale. Ma non è il suo. Ma come? Che cazzo sei? Ma si è cocco su? Ma ti è. Ah, se stai su, se non lo ha fatto. Se si sa. Cane! Oh, no! Oh, no! Cane! 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 E' bella! Devi tenere il naso. Oh, ma si pazza. Guarda, non si atteggi. Oh, ti fai, tu la fai la via a costruzione. Non è una foto. No, no, no! Non è un uomo! 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 Passurato! Chiuccavino lo pillo! Forlto. Sto da un gioia! Sto frate cagato! Che scrive? Cos'è Clementino? Lui sei un scemo, ma tu sei proprio sguarrato! Oh, va giù! Oh, si balla! Un attellare di salla! Oh, leo si balla! Un attellare di salla! Eh! Boobz! Boobz! Io e Boobz! Guarda giù, cap'è la storia! Mamma, mi vanno cagate! Ma che si parla, sono una pasta di scuola! Eh, eh, mi vanno cagate! Siete pronti per il ta-u-to? Sembite! Boobz! Porca! Un boobz! Un? Un boobz! Un boobz! Un boobz! Io mi ostino, ma che lei è uguale! Mi sfizia, è lo stesso con lui, guarda! È il tuo brado! È tutto a fronte, voglio, è tutto a fronte! Vai, vedi i due! Vai, vedi i due! Oh, 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 oh! I nostri boobz! Boobz! Ma che boobz, vai! Ah, è il manito delle boobz! Eh, eh, eh! Eh, eh, eh! We want more! A me in Israel! Noooooooo! ! Mammo Vierse Tempendo! Mammo Vierse Tempendo! Mammo Vierse Tempendo! Si tu non Statistics! Vierse Tempendo è uguale! Oh, my God... Rich! Yeah! Stop! E' mamma ora una cosa di spicci Che siYjjjjjjjj,siYjjjjjjjjjjjjjj U olmaz problemas non lo sai non lo sai yes i ho detto io ho detto no no me are the trapions my friend boops 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 è sorido oh bravo 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 Sì, tu sarai sul mio video nel Youtube, puoi veridare il canale di youtube In realtà sto in registrazione, quindi puoi dire Terosifiu duki fattu gial vai a mano di questa stocca vai a mano vai non lo fa, c'è cazzo di filma, c'è cazzo di metta ah no, qui, qui chi cazzo morire, tu do a buffet e paresti la macchina intanto ahhhhh salvato ed soltato Ryan salvato ed soltato Ryan, non sta livello di fallo no, c'è lo so La quantità! Yes! Ellen! Ellen! Oh! Please! Tic Tac! We need boobs, please! Wow! Piglia l'incurtu! Oh! Yes! Oh! Oh! Pussi! Wow! Pussi! Oh! Pussi! I want to become pussy! I need your boobs! Pussi! 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 Oh my god! Pussi! Nice! Very nice! Pussi!